Il ponte del 25 aprile fa registrare il pienone di visitatori in Campania, boom di arrivi a Napoli dove risulta prenotato l'85% delle camere d'albergo. Il comune per migliorare l'accoglienza ha installato quattro infopoint in piazza Plebiscito, piazza San Gaetano, alla stazione centrale e all'aeroporto. Questo è un primo passo di un percorso che noi faremo per un'organizzazione strutturata dell'offerta e dell'accoglienza turistica. Troveranno tante e tante mostre su cui noi forniamo informazioni qui attraverso un QR code e troveranno eventi. Mentre a Napoli inizia a crescere anche il mercato americano e giapponese non mancano perplessità per la tenuta del trasporto pubblico. Mi scuso chi sta vivendo questi disservizi sia cittadini che turisti, noi cercheremo sempre di fare meglio ovviamente di avere poi una gestione all'altezza delle aspettative che l'amministrazione e la città hanno. Disaggia anche alle funicolari dove sono saltate diverse corse per l'assenza di personale. È andata molto meglio invece agli imbarchi per le isole e per la costiera amalfitana dove sono tornate le code. Abitiamo il nord, Princia di Manto, così visitiamo tutta questa zona che è fantastica. Molto, molto, tutto è molto bellissimo qui. C'è fiducia nei prossimi mesi sperando che non si esageri. Assolutamente voglia di tornare alla normalità e siamo turisti, ci godiamo il panorama, ci godiamo la gita. Ripartono anche le scampagnate. Oltre 10.000 persone hanno scelto di trascorrere in agriturismo uno dei giorni del ponte.